Essere imprenditore oggi significa costruire qualcosa per la propria impresa, per la propria comunità lavorativa, ma significa soprattutto saper restituire qualcosa al territorio, avere quella coscienza etica che ti fa capire che partecipi all'attività sociale. Essere imprenditori oggi è una responsabilità importante ed è un esempio, un esempio per la propria comunità ed un esempio di correttezza e di etica.